Cari amici, benvenuti di nuovo su Dite la vostra che io dico la mia, prima pagina, oggi il titolo che vorrei commentare con voi è quello del messaggero, il lotto è all'asta per finanziare la manovra e di per sé mi viene da dire siamo messi proprio male, in effetti il lotto non è tanto il problema che sia messo all'asta nel senso che è in concessione, che dura sette anni e la scadenza naturale sarebbe nel 2025, quanto il fatto che il governo per raccimolare soldi ha anticipato l'espletamento dell'asta pur appunto finendo la concessione del 2025 e vuole introiettare parzialmente dei soldi anche nel 2024 per poi dare la nuova concessione del 2025, insomma un modo che a me quantomeno fa pensare che siamo messi male, che si sta grattando il fondo, che si cerca ogni modo per raccimolare soldi, evidentemente non un buon segnale per chi deve governare ma neanche per noi italiani, voi cosa ne pensate di questa cosa? Comunque ricordatevi sempre di iscrivervi al canale, lasciare un like e soprattutto lasciare il vostro pensiero, un commento su questo titolo di oggi del messaggero. Grazie, alla prossima!